benvenuti ragazzi in questo nuovo video sono da 250 e siamo su rocket league oggi farò due partite e spero di vincerle iniziamo iniziamo quali ci sono a 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 azione no azione? ma non è entrata e vai no a 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 4 a 4 a 4 a partita sudata no no vedi 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 ma vedi vedi vedi... che c... non lo avevo what's up what's up i bersost ma sono perché c'è il fortificatore la prima partita è andata l'abbiamo persa però mi rifarò nella seconda partita faccio qua con la seconda partita questa si assicura grave un po' e appena l'ho detto subiamo ma da meno male da sbagliato ma perchè la sto facendo sempre togliamolo da qui niente oh niente sempre allo oh vedi la riesce a tenere sempre per questo ma è un po' a zappare ah c**o avevo pure spinto questo è bravo non certo ma ci ha spagliato non ci spagliato non ci faccio non ci spagliate oh ma è quello che va sui mure vai eh gol che gol in volo in vantaggio 1-0 prendendo il nos ah troppo forte ah mi ha fregato che culo eh solo così mi posso insegnare se mi frega non è così dai perchè questa wall sui muri manco spider e vai bella grazie 2-1 si riporta in vantaggio attenzione alle no si non ho la sbaglio adesso dai oh mi vedi questo palo dai non ci credo come ho fatto a non prendere il mamma grazie portaci mezzo me l'ha tolta no questa va fuori vero si buttiamola non c'è il nos sennò costerà gol mi ha fregato il nos eh vedi non c'è il nos qua frega qua frega ostaci no dai devo perdere se salto 30 secondi buttiamola sta palla dai altri 15 secondi no 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 l'ultimo secondo si l'ho lasciata si eh che si vince questa questa si vince anche questa partita molto sudata però ce l'ho fatta a resistere spero che il video vi sia piaciuto lasciate like se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale ci vediamo in un prossimo video ciao ciao